Finanziamento per il Museo Regionale della Memoria Giovanni Palatucci di Campania. A darle notizia il sindaco Roberto Monaco, che su Facebook ha reso noto che il Comune risulta beneficiario di un finanziamento di 53 mila euro a favore del Museo della Memoria. Il Museo Regionale della Memoria e della Pace Giovanni Palatucci, unico museo della memoria in Campania, è stato istituito nel 2008 per raccontare la triste vicenda che la cittadina salernitana ha vissuto durante la Seconda Guerra Mondiale, quando in seguito alle leggi razziali si decise di istituirvi due centri di internamento per prigionieri politici ed ebrei.